Abbiamo poi incontrato nella Sala dei 12 la rappresentanza della banda militare guidata dal maestro Gatta insieme alla famosa soprano Teresa Sparaco, accompagnati dal segretario Marco Podeschi. Cantanti e musicisti si esibiranno proprio stasera al Titano, nel concerto in onore della eccellentissima reggenza, appunto, alle 21. L'evento artistico mondano, in collaborazione con i nuovi Serenissimi, è una serata di beneficenza in favore della Fondazione Centro Anch'io. I reggenti, incontrando gli ospiti, hanno ringraziato la signora Sparaco e consorte per la presenza e l'amicizia verso i sanmarinesi.